Pensiamo questo, Lui non rinnega questo dono, non rinnega noi, Lui aspetta sino alla fine. E quando noi, per la nostra debolezza, ci allontaniamo da Lui, Lui aspetta, Lui aspetta. Lui continua a dire, Amico, ti aspetto. Amico, cosa vuoi? Amico, perché con un bacio mi tradisce? Lui è il fedele dell'amicizia. E noi dobbiamo chiedere questa grazia di rimanere nel suo amore, rimanere nella sua amicizia, quell'amicizia che noi abbiamo ricevuto come dono in sorte da Lui.